Domani è il grande giorno per la viabilità in Valdarno. Alle 10 del mattino il taglio del nastro della variante a sud. Siamo di fronte a una delle opere più importanti e più belle, se vogliamo, anche dell'intera nazione, dell'intera Italia, perché la variante, il ponte a sud della variante alla strada regionale 69, è pronto per essere inaugurato. Infatti fra poche ore, domani, intorno alle 10 del mattino e alle 15, l'apertura poi alle auto, l'inaugurazione con le istituzioni, le massime cariche istituzionali non solo del Valdarno, della provincia di Arezzo, ma anche della Toscana e anche a livello nazionale parlamentari e molte forze dell'ordine che daranno il via ad una nuova era per la viabilità nel Valdarno, che speriamo, grazie a questa opera, acquisti non solo maggiore scorrevolezza nel traffico, ma anche e soprattutto maggiore sicurezza nella percorrenza dei tratti stradali del Valdarno. Dietro di noi appunto il ponte che ha anche un nome, si chiama Ponte Leonardo. Prende il nome di Leonardo da Vinci, ovviamente questo è un nome che va soprattutto a mettere un punto su questa opera, un punto internazionale che rende questo ponte un ponte tra i più belli dell'intera Toscana. L'inaugurazione dunque domani alle ore 10 con il taglio del nastro, ma le automobili, le vetture, i camion, che saranno obbligati a passare da questo ponte per andare all'autostrada, per chi viene dall'Evane ma anche da Arezzo e paesi limitrofi, appunto ci sarà alle ore 15, apertura ufficiale al traffico. Insomma, la nuova era è iniziata, un lavoro che è iniziato nel 2009, ha avuto diversi rinvii per l'inaugurazione, ma adesso ci siamo e dove ci troviamo in questo momento è proprio lo svincolo che unisce Terra Nuova Bracciolini al ponte, l'altro svincolo sarà ovviamente quello che unisce Levane e l'altra parte della variante alla 69 inaugurata circa 5 anni fa, appunto, che è quello di Levane, la ruotatoria che sarà fulcro del traffico. Insomma, domani l'inaugurazione e noi ci saremo con le nostre telecamere.